I suoni che ora sentirete sono stati prodotti dalle aurore boreali che si formano ai poli di Saturno, il grande pianeta degli anelli. Le melodie sono state registrate dagli strumenti a bordo della sonda Cassini costruita dalla NASA e dall'Agenzia Spaziale Europea che si trova in orbita attorno al grande pianeta. I suoni reali non sono udibili all'orecchio umano, per questo si è dovuto operare sulle loro frequenze così da renderle audibili a ciascuno di noi. Grazie a tutti.